un cordiale saluto buongiorno a tutti voi cari telespettatori di fan tv ben ritrovati allora siamo qua come tutte le mattine ricominciamo insieme questa nuova settimana per leggere sfogliare i giornali e leggere i titoli delle notizie più importanti sul carlino e sul corriere adriatico cominciamo dal santo di oggi vediamo il calendario del giorno e oggi è san giovanni da capestrano sacerdote il sole sorto alle 7 31 tramontare 18 14 minuti stavo dando un'occhiata alla centralina che abbiamo qua sopra la sede di fano tv è una centralina una piccola stazione meteorologica che ci dà i dati i dati per esempio la temperatura il vento le precipitazioni e allora come vedete forse anche voi dal centro al centro del teleschermo sotto la voce vento a parte che adesso tira poco perché abbiamo 1.6 quindi non è tantissimo ma la raffica giornaliera registrata a mezzanotte e 6 la mezzanotte 6 è stata di 74 chilometri orari dunque una bella sventata questa è la pagina che tra l'altro potete consultare anche voi passando dal sito internet occhialanotizia.it invece per quanto riguarda le previsioni della protezione civile delle marche per oggi lunedì 23 ottobre prevede un cielo molto nuvoloso con schiarite nel pomeriggio a partire dal settore settentrionale dalle prime ore della notte rovesce temporali anche di forte intensità diffusi su tutto il territorio con il limite delle nevicate attorno ai 1.400 metri fenomeni sono in attenuazione dalla tarda mattinata di oggi a partire dal settore settentrionale della regione ancora forti raffiche di vento fino a tempesta sulla fascia costiera le temperature sono in diminuzione domani però il tempo torna a migliorare torna sereno così avremo tempo stabile e soleggiato anche per il resto della settimana affascinante emozionante il le due pagine che il resto del carlino questa mattina dedica alla vicenda ormai conosciuta ma sempre bella da leggere dell'isippo così nascosi il lisippo questo il titolo con la fotografia a centro pagina sul carlino di oggi parla un componente del gruppo che interrò la statua ritrovata nel 64 e un altro pescatore poi autos rosato che rivela io ci guadagna ci guadagnai 120 mila lire poi si parla di una casa svaliggiata due volte prima l'oro poi l'argento un doppio colpo in pochi mesi al mare a pesero la rabbia di una residente sono entrata e ho trovato le stanze a soccuadro e quando ho chiamato la polizia nessuno è venuto perché c'era una sola pattuglia sul territorio e poi l'allarme dei grillini sulle poste che dovranno chiudere 52 pensate in tutta la provincia di peso rubino sono gli uffici che a breve chiuderanno c'è anche l'elenco è un documento davvero shock così scrive il giornale e poi al baratov decesso per cause naturali trovate in bagno senza vita la tragedia di un 45enne era depresso per la scomparsa della fidanzata e allora apriamo queste due pagine dedicate all'isippo parlano dunque i testimoni ecco qui autos rosato ci guadagnai 120 mila lire mia madre pagò tutti i debiti sono stato io a toccarlo per primo all'inizio ho pensato che fosse un morto la chiamava o meglio la chiamavamo la pupa questa statua proposero di venderla ad un noto artista della televisione che però desiste poi arrivò barbetti da gubbio e la storia lì ormai sappiamo come è andata a finire altro sorrasato dice ancora abbiamo anche scheggiato la statua sopra l'ombelico con un pezzo di ferro perché volevamo togliere le alghe e poi alla domanda del giornalista si è mai sentito in colpa per non aver denunciato il ritrovamento dell'isippo e lui rispose lui risponde io no perché all'epoca avevo 15 anni ed ero senza una lira ma a conti fatti sta meglio a malibu qui chissà dove sarebbe finito questo è il pensiero di atos rosato il mozzo che all'epoca sulla barca sulla ferruccio ferri appunto faceva il mozzo e toccò per primo questa questa statua e poi c'è il racconto invece di di uno dei manovali incaricato di far sparire il lisippo dal sottoscala di casa della famiglia dell'armatrice valentina magi da allora sono passati 53 anni da quella notte ma il nostro testimone scrive roberto damiani del carlino al tempo poco più che ventenne preferisce non dire il suo nome però racconta e parla e dice in casa quella statua puzzava troppo e per questo la facemmo interrare la testimonianza di quell'uomo appunto che fu incaricato di far sparire il lisippo qualcuno di noi per togliere le conchiglie usò come ha detto anche rosato il cacciavite ma finì per staccargli gli occhi la buca era già stata scavata e questo è il racconto davvero straordinario affascinante qui lo vedete lo vedete all'interno del museo ghetti polghetti di malibu negli stati uniti in posa attorno gli studenti un gruppo di studenti andiamo avanti allora velocemente con le altre pagine la guerra dei volatili siamo sempre sul carlino di pesaro puntano pantano scusate l'invasione degli storni puzza e rumori il comune si muova migliaia di uccelli residenti sono divisi qualcuno apprezza parla di spettacolo in effetti si parla di spettacolo perché quando questi storni si muovono all'unisono fanno queste coreografie sul cielo sono in cielo sono bellissimi però chiaramente poi questi questi uccelli queste migliaia di uccelli anche loro hanno i loro le loro esigenze loro bisogni quindi fanno e creano disagi certamente quindi qualcuno chiede adesso di intervenire però c'è tra l'altro voglio rassicurare attraverso sempre l'articolo il pezzo dove parla lo zoologo dice massimo pandolfi è un evento naturale tranquilli presto migreranno e quindi andranno altrove andranno un'altra parte diciamo delle poste le poste che elimineranno 52 sedi i grillini all'attacco ma il pd dice non è vero il documento c'è però è una lista ufficiale in bianco la data di esecuzione e qui il carlino pubblica quella fonte è poste.it pubblica tutta la trafila la sfilza di nomi dei paesi dove gli uffici postali verranno verranno chiusi sono praticamente quasi tutti a parte i grandi centri tipo pesero o fano insomma per il resto mi pare di averli letti quasi tutti dalla pagina delle marche invece la cronaca sempre sul carlino seminuda non ricorda nulla usata la droga dello stupro ecco questa è una di quelle notizie che soprattutto ai genitori fa drizzare i capelli perché perché sono quelle cose su cui bisogna davvero stare molto attenti si parla di questa droga la droga così chiamata dello stupro una ventenne è stata violentata da uno più giovani l'ipotesi degli investigatori appunto è che sia stata messa in un drink sciolta in un drink una pastiglia sono così chiamate droghe dello stupro perché hanno effetti sedativi dissociativi ipnotici causano amnesia perdita di memoria per cui non ricordano non ricordano nulla ed è questa la risoluzione del caso che arriverà incrociando appunto questi risultati i carabinieri della compagnia di Ancona sono convinti questa ragazza di 20 anni che lunedì 16 ottobre si è presentata all'ospedale salesi accompagnata dai familiari in uno stato di profonda prostrazione è stata sicuramente violentata corriere adriatico il primo in primo piano la nuova scuola da edificare fai fa battere gli ultimi alberi siamo a pesero vanno giù anche gli ultimi pini e nel parco di via la marmora a giorni il bando per la nuova scuola ripartiremo ripianteremo usate gli alberi in altre zone della città dice l'assessore enzo belloni ma l'abbattimento come avviene spesso in questi casi non è piaciuto a diversi che si sono lamentati poi a centro pagina invece sul palco di sant'angelo invado dove si è tenuta anche questo fine settimana la fiera del tartufo sul palco c'era c'era montezemolo che nobilita dunque il tartufo d'oro tra i premiati l'ex presidente della ferrari che ha detto al pubblico siete fortunati voi che vivete qui in questa questo paese in questa terra la pagina di fano del corriere guardate l'albero di natale l'albero di natale di piazza 20 settembre piazza e pincio i due poli di attrazione per il natale si è già costituito il comitato degli eventi l'inaugurazione tra poco più di un mese avremo un centro sempre più bello senza trascurare i quartieri ha detto l'assessore all'attività produttive carla cecchettelli le luminarie le luminarie di natale estese nelle vie laterali e alle porte della città e ci sarà anche la pista di ghiaccio da urbino invece qui parliamo del tartufo d'oro che è andato a montezemolo voi siete fortunati a vivere qui abbiamo detto l'elogio del presidente nazionale di teletone alla qualità della vita del territorio tra i vipa anche la carluci che strappa all'ex leader ferrari la promessa di partecipare a ballando sotto le stelle che è il programma che che conduce appunto in rai è nato il terzo polo siamo a pergola il terzo polo delle bcc delle banche di credito anche i soci della banca di pergola hanno approvato la fusione con quella di corinaldo il nuovo istituto a 26 mila clienti raccoglie in tutto 634 milioni di euro e in impiega nel territorio 466 da senigallia invece laboratorio di analisi alle corde il personale non è sufficiente gli esami calati da 300 al giorno a 100 pazienti rimandati a casa tra le proteste due addette sono in malattia per problemi connessi ai locali inadeguati 10 chilometri di corsa torniamo sulle pagine di Fano corriere adriatico per la l'altra manifestazione podistica dopo la colle marathon sicuramente più importante Fano corre che può considerarsi sicuramente la manifestazione podistica che si svolge a Fano è certamente una delle più belle insomma qui nella fotografia vedete la partenza della corsa 10 chilometri tra centro storico e mare poi da Pesero banca marca Dio già chiuse le tre filiali da oggi si passa a Ubi la zona mare resta senza Bancomat l'aiuta e qui siamo ancora alla cronaca le truffe soprattutto agli anziani l'aiuta sulle strisce e poi la deruba una giovane donna da una mano ad un'anziana da attraversare la strada per sottrarle la collana d'oro il raggiro è venuto a soria nei quartieri di Pesero quando la vittima si accorta del furto la sconosciuta era già sparita colpi anche in abitazioni in zona mare raziano mentre il proprietario è ricoverato in ospedale in questo caso mi verrebbe da dire non lo dico io perché sono lo dicono gli esperti lo dicono anche quelli della polizia quando fanno i corsi soprattutto per mettere in guardia dalle truffe c'è questa mania di raccontare tutto della propria vita quindi di condividere tutto di più su facebook in particolare sui social network ma ricordatevi e ricordiamoci che questi sono dei delle finestre aperte e accessibili a tutti quindi se voi fate una cosa vi allontanate da casa e lo scrivete su facebook i malintenzionati lo sanno e quindi sanno che quella casa è vuota e allora condividere sì magari anche dopo siete in vacanza andate in vacanza tornate dalla vacanza e pubblicate le foto non le pubblicate quando siete là perché poi dopo inevitabilmente qualcuno che magari è malintenzionato può dire ecco quella casa è vuota andiamo l'australia porta bene a valentino rossi il circuito di philip island segna la riscossa di rossi sul podio tra gli applausi del pubblico di casa bene anche gli altri piloti legati al team morbidelli consolida il suo primato in classifica e poi il calcio sapete i problemi del modena che ha fatto saltare la partita con il fano il fano doveva andare a modena per giocare la sua partita di lega pro in realtà è saltata quindi stare fermi ci fa sballare tutto il ritmo è stata una domenica senza partita l'allenatore del fano cuttoni dice se si voleva dare un segnale forte era meglio che si scioperasse praticamente tutti quanti dalla alla c il modena perché sta scioperando perché ha scioperato perché deve avere i giocatori devono avere ancora gli stipendi arretrati ieri il fano avrebbe dovuto giocare al mancini appunto con la squadra modenese poi andiamo invece a vedere che cosa ha fatto in serie di la vispesero la vispesero ha perso in casa contro la vastese 4 a 2 questo risultato finale il poker targato vastese guasta la festa i biancorossi si lasciano sorprendere dagli avversari e rimangono a bocca asciutta l'ultima pagina è per la lube parliamo di pallavolo ma purtroppo non quella giocata perché ieri è stata rinviata la partita a civita nova c'è stato un dramma al palazzetto dello sport uno spettatore è stato colpito da un infarto sugli spalti prima della partita di volley immediati ma inutili soccorsi la vittima è giuseppe costantino 61 anni siciliano ma civita novese di adozione lo strazio dei familiari e queste sono le fotografie sia della vittima sia dei momenti concitati davvero difficili dei soccorsi noi ci fermiamo qui la rassegna torna questa sera come vi abbiamo annunciato attraverso internet ieri c'è stata anche questa ondata in maltempo insomma queste queste ore di forte vento che potrebbero aver causato qualche difficoltà in giro per la provincia e la regione quindi fate attenzione soprattutto se vi state per mettere in auto e noi ci vediamo questa sera alle 20 e 30 con il telegiornale per le segnalazioni invece vi abbiamo appena fatto vedere il nostro numero di telefono 338 4968 250 grazie per averci seguito buona giornata a tutti